Il Papa si gusta una pizza. Al Tg1 le immagini di Francesco che in Vaticano a sorpresa si siede a tavola con i volontari. Eccezionale fuori programma in Vaticano per i volontari della giornata mondiale dei bambini. Con loro a sorpresa Papa Francesco che tra canti e risate si è gustato una pizza insieme a loro. Ignazio Ingrao. Metti un sabato sera a mangiare la pizza con il Papa. È successo a 130 volontari che avevano animato l'incontro mondiale dei bambini. Bergoglio li ha voluti salutare insieme con le famiglie e loro gli hanno fatto trovare un piatto che il Papa argentino di origini italiane apprezza molto. La pizza margherita fatta arrivare appositamente da lettere in provincia di Napoli. Mandolino e fisarmonica intonavano sole mio. Bergoglio si è seduto a tavola con i volontari nell'atrio dell'Aula Paolo VI e ha gustato con piacere la margherita. Sbrighiamoci altrimenti la pizza si fredda, ha detto il Papa appena arrivato. Il 6 novembre in Aula Nervi 7000 bambini da tutto il mondo avevano incontrato il Pontefice. Un evento organizzato dalla cooperativa Auxilium, comunità di Sant'Egidio, fondazione Perugia Assisi, con il di Castero Vaticano per la cultura e l'educazione e condotto da padre Enzo Fortunato. Grazie per quello che avete fatto e pregate per il Papa, ha detto Bergoglio ai volontari, con un pensiero per tutti i bambini del mondo.